buongiorno e benvenuti a questa nuova lezione di calendario posturale oggi lavoreremo un po di stretching per le dita e il polso e l'avambraccio lo facciamo a sedere se volete potete tranquillamente farlo anche in piedi o a sedere per terra ci mettiamo dunque con il braccio destro steso davanti a noi spalla gomito e polso sono sulla stessa linea e le dita della mano sono rivolte verso il basso così che il palmo della mano guardi dritto davanti a me spalla destra bassa schiena possibilmente dritta con la mano sinistra prendo le quattro dita della mano destra e se possibile anche un po più su là dove le dita si congiungono con il palmo da questa posizione la spalla destra rimane in basso inizio dolcemente a spingere con il polso in avanti mentre la mano sinistra opera una spinta diametralmente opposta spinge leggermente verso di me ovviamente sono tutte delle tensioni leggere non vado minimamente a forzare il polso abbiamo detto spinge leggermente davanti la mano sinistra invece tira leggermente verso di me mi raccomando la spalla destra in basso attenzione anche a non stirare troppo il gomito se sentissi che il mio gomito si stira un po troppo lo piego leggermente senza ovviamente andarlo a piegare completamente e partiamo ampi respiri prendo aria e la butto fuori piano 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 posso eventualmente se riesco ad agganciarlo tenere il pollice altrimenti se non riuscissi vanno bene le quattro dita mi raccomando respirazione lenta tranquilla soprattutto piena mantengo questa dolce indicazione chiamiamolo sì che posso dare al polso di andare un po in avanti mentre la mano tira leggermente verso di me se sentissi troppo fastidio posso sempre fare meno tirare un po meno con la mano sinistra spingere un po meno col polso destro attenzione come sempre a non tirare la spalla su spalla bassa attenzione a non stirare troppo il gomito lentamente usciamo dalla posizione piano piano se mi serve posso anche un po massaggiare il polso le dita la mano e una volta che sarò tornato padrone della mia mano allora uso l'altra stendo il braccio sinistro davanti a me la spalla bassa attenzione a non alzarla il gomito la mano la spalla sono tutte sulla stessa linea ruoto dolcemente le dita verso il basso e con la mano destra mi prendo le quattro dita e anche un po più su se riesco posso agganciare eventualmente con un dito o se riesco anche con più anche il pollice ma non è necessario spalla bassa spingo dolcemente avanti il polso sinistro mentre con la mano destra tiro dolcemente verso di me il resto delle dita ampi respiri cerco di concentrarmi soprattutto sul buttare fuori aria molto molto lentamente mi raccomando sempre senza forzare voglio sentire sì un po di tensione magari sul polso sull'avambraccio eventualmente anche un po sulle dita ma niente che non riesca a gestire per il tempo che stiamo passando insieme ad allungarci lentissimamente sciogliamo la posizione di nuovo se serve possiamo massaggiarci un po la mano le dita il polso sia dell'una e dell'altra mano che hanno lavorato entrambe e noi anche per oggi ci salutiamo con il reminder diciamo si che se volete potete tranquillamente rimettere indietro il video e ripetere un'altra volta l'esercizio o anche più volte anche magari durante diverse fasi del giorno noi dunque ci vediamo domani per un'altra lezione ciao 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 ciao